Perché questo è esposto in Procura? È esposto in Procura proprio perché ci sono stati dei casi di distacco avvenuti a metà febbraio e adesso in questa settimana stanno passando degli operatori dell'azienda Nuove Acque a minacciare di distacco prossimo, nel senso della settimana prossima, gli utenti che hanno fatto la campagna d'obbedienza civile, quindi autoriducendosi la bolletta, questo significa che a questo punto siccome nessuna autorità costituita fino adesso a cui ci eravamo rivolti, che sarebbe il sindaco di Arezzo e i vari sindaci, sono intervenuti presso questa azienda di cui fra l'altro sono anche soci, dicendo che loro non possono considerare possibile andare a dire a Nuove Acque che non deve effettuare distacco e perseguire i morosi. È una cosa allucinante, secondo noi sono degli irresponsabili. Nel caso in cui invece i distacchi sono avvenuti, che cosa è successo? È successo che sono stati costretti, ob d'ortocollo, a regolarizzare le posizioni, diciamo quei parziali pagamenti che non avevano fatto, altrimenti non gli avrebbero rilacciato l'acqua. In questi condominio ci sono anche utenze, diciamo famiglie con disabili totali, che è una cosa gravissima, oltre a quello anche per altre persone, ma sono stati distaccati per quattro ore senza acqua. Il sindaco Ghinelli in campagna elettorale, quindi quando ancora non era sindaco, come si è comportato? Appena sindaco, ho partecipato a un convegno con Lobina, un esperto europeo che vive a Londra, di Arezzo, ma vive a Londra, è venuto ad Arezzo a presentare il suo lavoro, una statistica sui paesi che hanno sopportato l'acqua pubblica. Il sindaco ci ha detto parole di speranza, che entro un anno avrebbe rivisto tutto, avrebbe guardato i costi, ha studiato la faccenda. E noi ci abbiamo creduto, ci abbiamo sperato, e invece purtroppo si sta comportando molto male, dopo pochi mesi.